buongiorno avrei notato sicuramente che negli ultimi giorni un po la pubblicazione è venuta è venuta un po a cambiare il suo ritmo cioè se ti ricordi fino a due settimane fa pubblicavo ogni giorno o quasi inizialmente quando abbiamo iniziato qualche mese fa a fare questa avventura del blogging pubblicavo anche quasi tutti i giorni o comunque un giorno sì un giorno no era sicuro che pubblicassi qualcosa allora gli ultimi giorni ovviamente il lavoro è stato e continuerà a essere per qualche giorno un po tanto ok tanta carne sul fuoco tanta roba da fare bellissimo per carità e quindi non ci arriva cioè è inevitabile non ci arriva a fare tutto figurati anche se praticamente il montaggio di questo video è proprio una cosa banalissima che si fa in un attimo però insomma un po di tempo ci vuole ma soprattutto io penso che il problema è che non lo so fino a che punto sento che i contenuti che porto siano onesti cioè nel senso a volte mi sanno cioè a me stesso sanno i miei stessi contenuti di qualcosa di troppo preparato cioè all'inizio se ti ricordi quando è partita la cosa non era così cioè all'inizio era così accendevo e ho fuori l'argomento man mano che mi venivano cose le inserivo motivo per cui il primo video dura un quarto d'ora mi pare cioè nel senso che poi visto che non è una mia durata solita dei video ma sempre mi tengo massimo sui dieci minuti no perché sennò insomma diventerebbe poi un po' un po' un po' troppo ok però ecco l'altro giorno parlavamo con un'amica che mi faceva notare che diceva ma tu sei soddisfatto dei tuoi video adesso più di quando hai iniziato e ho detto sai che forse sono più soddisfatto dei primi che non di quelli di adesso che invece mi sembrano un po' non lo so mi sembrano un po' meno spontanei dei primi ed è un po' un problema questo perché in genere avviene il contrario cioè che uno man mano si perfeziona man mano insomma trova di più se stesso e quindi è più contento del proprio lavoro io forse no forse sono più contento dei primi piuttosto che di questi il problema è quello il contenuto e quando è così secondo me perde un po' anche di bellezza perché proprio se ti ricordo i primi video non c'era un argomento ci iniziavo a parlare e da lì veniva fuori l'argomento adesso invece sembra quasi che se non ho un argomento non posso neanche accendere la videocamera e non mi piace non mi piace perché ripeto questo vlog secondo me è nato con un altro intento quindi adesso ho due strade o mi fermo come già ho fatto qualche giorno e mi fermo per un po' oppure l'altra strada potrebbe essere quella di continuare la sperimentazione perché in fondo di sperimentazione si tratta e quindi iniziare a accendere la videocamera anche senza avere nulla da dire e poi nel caso in cui dovesse venirmi fuori qualcosa taglio quel pezzo e da lì inizio il vlog sempre se ho qualcosa da dire perché se no altre due alternative o non pubblico niente e quindi faccio dei video che poi non verranno pubblicati oppure pubblico i video così come sono cioè anche se secondo me non sono degni per i contenuti che hanno di essere pubblicati è una doppia strada è una doppia cosa da provare secondo me potrebbe funzionare l'una o funzionare l'altra non lo so non lo so nel senso che comunque ripeto è tutto iniziato per sperimentazione e per sperimentazione deve andare avanti voglio dire non è il mio lavoro questo e non credo proprio che lo sarà quindi alla fine quello che faccio con questi video è portarti un po' nella mia giornata nella mia vita non perché me ne frega qualcosa di farti sapere quello che faccio piuttosto per farti il mio compagno di viaggio cioè far sì che tu mi possa fare compagnia e magari io possa fare compagna a te che è una cosa senza pretesi in realtà cioè nel senso non si pretende nulla quando è così è proprio una cosa leggera è abbastanza spontanea credo che poi tra una settimana esatta entrerò in un nuovo mood lavorativo ok? ci puoi arrivare da solo cos'è? non ti anticipo nulla però ecco dovrò cambiare un po' di abitudini dovrò cambiare un po' di modi anche di organizzare la mia giornata tenendo conto che la mattina avrò questo nuovo lavoro che mi impegnerà diverse ore che mi impegnerà alcuni giorni in particolare e quindi alcune abitudini devo conformarle in certo senso a questo nuovo lavoro per cui già ho in mente una nuova morning routine da prendere soprattutto con l'inizio della stagione autunnale poi invernale che dovrebbe un po' aiutarmi anche se in realtà altro non fa che rispecchiare un po' quella vecchia che ho sempre avuto cioè che era quella che mi piaceva cioè significa la sera cena presto al letto presto la mattina sveglia presto e tutta la giornata inizia presto quindi ecco anche questa è una cosa che mi porta a modificare un attimo il mio modo di fare anche questo cioè nel senso non voglio che debba diventare una cosa pesante dire oh cacchio devo fare anche quello no non ha senso se no al contrario deve diventare qualcosa che deve accompagnare la mia giornata e anzi fare quello che ha fatto finora cioè anche darmi un po' la spinta a fare a completare le task tra cui anche questa giusto per per fartelo anche vedere ecco per farti vedere che che lavoro cosa faccio cosa penso e così via quindi ecco non l'ho mai preso come un peso e non voglio che ci diventi quindi il mood è prendiamolo un po' più alla leggera nel senso prendiamolo un po' più come un qualcosa che non deve essere una scadenza ma che deve essere qualcosa che vale la pena fare ok che potrebbe sembrare uno dei miei classici controsensi però in realtà non lo è cioè non deve essere qualcosa di troppo impegnativo ma al contempo non deve essere una ciofeca che non gliene può fregare niente a nessuno a me per primo ok quindi niente è un buon proposito questo video è un buon proposito se hai visto questo video hai visto un buon proposito che è il mio riferito al vlog e perché no un po' in generale si può applicare un po' a tutto cioè la cosa bella è che poi li puoi applicare un po' a tutto questi ragionamenti non ti piace sta cosa? guarda un po' che fai? ti abbassi qua? stai fermo guarda un po' che lui deve deve ecco prima litigavo con l'autofocus con la vecchia videocamera adesso con questa litigo con il track del volto ok vediamo se così sta fermo e si è convinto va bene ok ci aggiorniamo quanto prima ok al prossimo video ciao 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 ciao